Felicità, amore, serenità. Dopo il grande successo della prima stagione. Non sono più quello di un tempo. Chi ha combattuto tanto per ottenerle, vive sempre nella paura che tutto possa sfuggire di nuovo. Antonia Liscova. Dovevate essere una coppia molto unita. Kaspar Capparoni. Roberto Farnesi. Mio fratellastro in città. Valentina Cervi. Spero non sia un intralcio. Lui è sempre stato. Solo per amore. Destini incrociati. Prossimamente. Canale 5. Prossimamente.